Una lettera all'assessore regionale all'economia Gaetano Armao che fa seguito all'incontro avuto la scorsa settimana a Palermo. È l'ultima iniziativa del Comitato Civico Patrimonio Termale finalizzata a sollecitare l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico composto da dirigenti e tecnici della Regione e del Comune di Sciacca da un proprio rappresentante. L'obiettivo è quello di lavorare in modo coeso, sinergico e continuativo, scrivono gli esponenti del Comitato Civico, sulla soluzione di tutti i residui ostacoli che impediscono la valorizzazione del patrimonio termale di Sciacca. Ci si riferisce all'esclusione delle stufe di San Caloggio e del bacino idrotermale dall'avviso pubblico che la Regione ha predisposto, così come alla problematica del centro di accumulo acqua, a quella della mancanza di fognature degli alberghi sul Monte Cronio, alla stessa legittimità dell'atto di acquisizione delle piscine molinelli da parte della Regione, messa in discussione dal Dipartimento Finanza dell'assessorato regionale guidato da Armao. Questioni che, ad opinione del Comitato, non avrebbero fondamento, ma per le quali manifesta il timore che si possa rimanere ulteriormente impantanati. E' per questa ragione che si ritiene fondamentale un coinvolgimento da parte della Regione in tutto il processo che si intende portare avanti. Non è stato così. Fino ad oggi è l'esempio ultimo e il mancato coinvolgimento del Comune di Sciacca nel lavoro di predisposizione dell'avviso di manifestazione di interesse in corso di pubblicazione. Anche sul futuro bando, il Comitato Patrimonio Termale continua ad essere convinto della necessità di avvalersi di un advisor non solo per i contenuti, ma anche per poter meglio veicolarlo sui mercati internazionali rispetto alle possibilità della struttura del Governo regionale. In tutto ciò il Comitato si distingue dunque nettamente dall'Associazione Ora Basta, che non solo non ritiene necessario ricorrere ad un esperto esterno, ma si è di fatto sostituita alla stessa Regione, elaborando una bozza di bando di affidamento a privati che include tutti i beni termali, anche quelli per i quali sussistono diversi ostacoli tecnico-burocratici, e intende nelle prossime settimane, dopo averlo condiviso con la città, metterlo a disposizione dell'assessore Armao. Comitati e associazioni che mostrano grande attivismo, persino punti di vista contrapposti, seppure nell'obiettivo comune della riapertura delle terme, mentre in tutto ciò la Regione va avanti per la propria strada, o rimane ferma, limitandosi a coinvolgere, ma solo in parte, l'amministrazione comunale. Intanto il Comitato Patrimonio Termale ha concluso la lettera invitando l'assessore Gaetano Armao alla giornata di mobilitazione, che il 6 marzo del prossimo anno avrà come slogan «Siamo a cinque anni di chiusura». Una provocazione nell'ospicio che entro quella data la novità siano finalmente positive, certamente, come è certo che a marzo 2020 le terme di Sciacca saranno ancora chiuse. Grazie a tutti.